Per l'isola d'Ischia quest'anno è la prima stagione dopo il terremoto. Antonio Longobardi, quali le prospettive? La prospettiva è una stagione dura, difficile, ma questa era preventivabile e prevedibile. Ce la dobbiamo mettere tutta, è difficile, però insomma ce la dobbiamo fare. Quanto conta il terremoto in questo calo di presenze già registrato nei mesi scorsi? Una minima parte o una parte è imputabile al terremoto, perché l'isola d'Ischia l'anno scorso stava vivendo una stagione buona, una stagione con segno positivo dopo tanti anni di crisi. Quindi questo segno positivo si è arrestato e indubbiamente è una parte dovuta al terremoto. Però dico che tanti motivi, tanti problemi risolti sono determinanti per questo calo di presenze. Ecco, problemi irrisolti indipendentemente dal terremoto, quali possono essere i più urgenti? Allora io come tu sai dove sto a Ponente, su una spiaggia, su una terrazza, sul mare, e vedere spesso il mare sporco, inquinato, secondo me là è una delle cose che dà più fastidio, da me, ma i maronti, a citare, quindi il problema della depurazione è uno fondamentale. E chi invece continua ad imputare gran parte delle colpe al traffico? Ma è chiaro che il traffico è un altro problema tapico dell'isola. Si parla di mobilità sostenibile, inseriamola una volta per tutte, però a livello isolano, non a livello comunale. Forse uno dei motivi o degli errori che si fa è che si ragiona comune per comune e non si affronta il problema in maniera interisolana. E della serie c'è sempre il problema di una mancanza di marketing territoriale? Il marketing lo fai quando hai il prodotto buono. Allora io anni fa ero assertore, non motivo per non dirlo, del contrario, bisognava fare azioni di marketing, pubblicità, promozione, eccetera, eccetera. Però adesso se tu non hai un prodotto valido che puoi pubblicizzare, alla fine se vendi fumo non hai niente in mano. Allora miglioriamo quelli che sono i servizi a terra, i servizi sul territorio, l'accoglienza e per poi presentarsi all'esterno, all'estero in Italia, con un prodotto come si deve.